Il Cubello, reduce da una serie di risultati poco lusinghieri, è chiamato a rialzare la testa per conservare un divario tranquillizzante dalla zona calda della classifica, anche se il calendario gli riserva un test probante e per nulla agevole. Al comunale arriva infatti la corazzata Paterno, seconda forza del campionato e seria pretendente al salto di categoria, che cerca e lascia passare per non perdere contatto dalla battistrada Martinsicuro, distante appena a due lunghezze, e sperare anzi in un contemporaneo scivolone dei biancazzurri adriatici per operare il sorpasso e la conquista della vetta. I nerazzurri marsicani prendono subito il controllo delle operazioni con i padroni di casa, ben consapevoli dell'elevato tasso tecnico delle bocche da fuoco marsicane, che puntano a limitare i danni e a cercare poi delle ripartenze in grado di far male. I ragazzi di mister Lucarelli sono immediatamente propositivi col temuto Bomber Aquino, che al quarto cerca fortuna con un gran destro dal limite che si spegne di poco a fondo campo. L'ex attaccante della Vastese ci riprova al decimo, quando scalda i guantoni a Di Vincenzo, reattivo per arginare a lato il temibile destro dal limite del numero 9 del paterno. La gara non bellissima vive di fiammate, che almeno inizialmente sono a preponderante matrice nerazzurra. Al ventiduesimo lo scatto sulla fascia di Di Ruocco è devastante, con Di Vincenzo che si mola alla causa per uscire tempestivamente. Il pallone termina sui piedi di Aquino, che prova la conclusione a porta sguarnita, ma non ha fatto i conti con Berardi appostato sulla linea di porta, che salva il risultato allontanando la minaccia. Il cupello esce dal gusce e comincia a dare i primi segni della sua presenza nella metà campo rivale, quando si rende insidioso con lo stacco in area di Selva Allegra, che intercetta la pennellata dalla destra di D'Antonio, ma non riesce ad inquadrare la porta difesa da Serpietri. Prima del rientro negli spogliatoi, il paterno trova lo spazio per una nuova infruttuosa percussione, causata soprattutto dall'intervento difettoso di Di Vincenzo sugli sviluppi di un tiro d'angolo che genera una mischia in area, risolta poi favorevolmente dal pacchetto arretrato cupellese. La seconda frazione di Gran Lunga più movimentata, con una serie di occasioni sciupate dal paterno, ma anche con qualche miglioramento nel gioco d'attacco della squadra di casa, che rischia in avvio sull'incursione di Di Ruocco, con l'ex calciatore del San Salvo, che riceve in area sulla sponda aerea di Aquino, ma calcia sull'esterno della rete. Il cupello si rianima e prova a colpire poco dopo col neoentrato Tarquini, che impegna Serpietri con un destro da distanza siderale. Al tredicesimo torna a pungere la vicecapolista con il tiro cross di Bolzan, che attraversa pericolosamente l'area di porta senza causare danni ulteriori a Di Vincenzo e compagni. Al ventiduesimo si fa vedere il cupello con lo stacco ravvicinato di Triglione che si spegne a fil di palo. Da questo momento il paterno prende il sopravento in zona d'attacco, con Di Vincenzo che si erge a vero baluardo difensivo con una serie di interventi decisivi che preservano il risultato per la sua squadra. Il primo salvataggio è sulla conclusione in area di Leccese, disinnescato in corner dall'ex portiere del Siena. Al ventitresimo l'occasione, davvero clamorosa, è sui piedi di Bolzan che sparacchia a lato da posizione invidiabile, giustificata la sua disperazione dopo aver fallito il bersaglio grosso. Il numero 10 del paterno ci riprova poco dopo, ma stavolta è Triglione a dare una mano al suo portiere depotenziando la nuova conclusione ravvicinata del centrocampista marsicano. Il monologo del paterno in zona d'attacco prosegue con l'affondo di Di Ruocco, autore di una caparbia iniziativa solitaria che lo porta a svariare su tutto il fronte d'attacco e dopo aver trovato il pertugio per la battuta in aria viene azzerato da un nuovo salvataggio del reattivo di Vincenzo. L'estremo locale guadagna i galloni di migliore in campo rendendosi protagonista di un nuovo salvataggio al minuto 36 su un nuovo affondo dello stesso Di Ruocco che in questo caso cerca la rasoiata dal vertice d'area. È l'ultima offensiva del paterno che nei minuti finali cede il proscenio alla squadra di mister Di Francesco, insidiosa al 39esimo con il pallonetto di Marinelli che grazie a Serpietra indirizzando la sfera a fondo campo va decisamente meglio al suo gemello d'attacco Tarquini che in pieno recupero il protagonista della zampata risolutrice che fa rimanere i tre punti a cupello. Per il paterno non c'è più tempo di reagire e al triplice fischio finale gli unici a gioire sono i padroni di casa sempre più vicini al traguardo prefissato della salvezza anticipata.